Facciamo un po' i conti del comune di Pescara con il neoassessore al bilancio Seccia, qual è la situazione? La situazione è delicata come tutti gli enti locali, siamo alle prese con l'assestamento di bilancio previsto dalla norma del TUEL per fine mese, quindi siamo proprio in questi giorni in riunione. Ovviamente come tutti i giri di boa dell'anno con l'assestamento di bilancio, bisogna riequilibrare un po' le casse e ovviamente bisogna fare tagli e riprogrammazione di quelli che sono i programmi fatti nell'anno. È ovvio che ogni conclusione di mandato da parte dell'amministrazione determina una maggiore allegria nelle spese che ovviamente si riflettono su chi poi viene. Non mi esprimo ancora perché voglio compiutamente vedere un po' la situazione, però ad occhio e croce dovremmo sicuramente fare una manovra correttiva dei conti entro il 31 in vista della chiusura dell'anno. Ricordiamo che il comune di Pescara negli scorsi anni è stato in predissesto. Sì, è ancora in predissesto, vale a dire che sono le tasse al massimo, non possono essere abbassate, possiamo fare solamente una rimodulazione di quelle che sono le tariffe comunali e quindi ovviamente la situazione è attenzionata continuamente. Ancora di più se si pensa che il comune di Pescara, l'ultima delibera dell'amministrazione Alessandrini, ha varato l'istituzione di Pescara di Adriatica e Risorse che è la società di riscossione. Quindi deve partire, deve fare una start-up proprio del comune di Pescara, molto delicata, che ovviamente è preoccupante per quanto riguarda l'impostazione iniziale perché ovviamente il cuore delle casse comunali determinerà anche la spesa. Per chiudere con una battuta, la precedente amministrazione ha lasciato qualche soldo in cassa? C'è stato un passaggio di consegne formale dove praticamente c'era qualche soldino ma già siamo in anticipazione di cassa e quindi ovviamente se devo dirla tutta no.